inizia il match tra Juve Stabia e Virtus Francavilla adesso imbastisce benissimo un'azione con Maldini addirittura che va alla conclusione che insiste con Ribery in mezzo Zigze Matteus ancora di bala palla Ribery il tubo roll è solo l'illusione della rete poi c'è la Noglu si allarga c'è la Noglu sulla destra passaggio in mezzo palla di bala e poi il tiro di Ribery e riparte ancora una volta da Juve Stabia il lancio perfetto col Playstar Plus per Zigze 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 ancora Raffaleau Marchisio cerca e tra Magullit al 45esimo minuto adesso ancora Modelmiero andare in avanti con Cafu Ocafor Zigze palla veloce per Ribery che deve solo lasciare riesce a appoggiare la Noglu adesso palla profonda per Zigze che era solissimo davanti ancora Zigze parata Gullit di Natale ci prova adesso la Virtus Francavilla Hernandez in anticipo Cafu conquista il pallone Zigze di prima di bala insiste Ocafor Mateus ancora la Juve Stabia c'è la Noglu di prima di bala ancora lui Leao per Totò di Natale ancora di Natale di Natale di Natale di Natale di Natale in mezzo Zola 6 a 2 nell'86esimo minuto palla che rimane pericolosa arriva adesso il fischio finale dell'arbitro e quindi da destra verso sinistra scende in campo la Juve Stabia in maglia bianca invece da sinistra a destra risponde in maglia scura e maglia nera ancora Ribery di prima il tiro la parata di Mike Mignan ancora non ha subito gol vediamo se ciò cambierà adesso perché c'è Tornandez in area di rigore la palla che arriva in qualche modo a Zola ora la Juve Stabia con Zig Zep alla dibala trentunesimo minuto si sblocca la partita non va a buon fine insiste però Ribery in reverse che gol di Jabeg che però adesso subisce anche il terzo gol della Juve Stabia palla di nuovo per Rocafora la Juve Stabia di nuovo in avanti per Zig Zee ancora original Enjoy ancora la Juve Stabia il tiro questa volta la parata arriva da parte di Mike Mignan finta e controfinta ancora Leao finta bellissima questa azione ha provato adesso è però la Juve Stabia a buttarsi in avanti con Rocaforo che è già in area di rigore Rocaforo 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 in mezzo ancora Mignan ritorna il pallone da lui ancora Mike Mignan si avventa in una uscita azzardata tra poco arriverà il fischio dell'arbitro però ultima occasione Juve Stabia il pallone in mezzo ancora Mignan a parare messo fuori in questo momento e finisce così quindi risultato di 5 a 0 in questo ritorno